La meringa, dolce, veloce e saporito. Per preparare la meringa abbiamo bisogno di 150 g di albume d'uovo e di 300 g di zucchero a velo. Lavoriamo gli albumi a temperatura ambiente e li montiamo a neve senza che risultino troppo fissi. Senza smettere di sbattere aggiungiamo poco a poco lo zucchero. Quando l'impasto della meringa è pronto lo collochiamo in una tasca da pasticcere con il beccuccio a stella. Inseriamo l'impasto della meringa in pirottini di carta sistemati su una pirottina. Per ottenere la forma tipica di questo dolce appoggiamo il beccuccio della tasca sul fondo dello stampo e lo muoviamo piano dal basso verso l'alto formando piccoli cerchi. Ora possiamo infornare la meringa a 90 gradi per almeno un'ora e mezza. Lasciamo il forno semiaperto per far sì che l'umidità della meringa fuoriesca. Buon appetito!